Runners e benessere del mese di luglio-agosto e troviamo l'intervista a Re Giorgio Calcaterra che ci parla di tante cose, sarai spesso e volentieri in Toscana come il raduno di Abbadia nel mese d'agosto e tante altre cose. Ma la cosa che vogliamo sottolineare oggi è la prossima domenica 11 di novembre dove ci ritorna la Livorno Half Marathon, la mezza maratona di Livorno, una gara nazionale UISP, ripeto domenica 11 di novembre, si è già stato lo scorso anno alla mezza di Livorno un gran successo anche a livello organizzativo con quasi mille iscritti alla gara e quasi mille arrivati un bel arrivo, la zona del centro di Livorno, il passaggio nella zona del cantiere navale il passaggio nel centro storico di Livorno e poi soprattutto la partenza e l'arrivo nella zona dello stadio comunale, stadio di atletica molto bello e soprattutto logisticamente perfetto. Che esperienza è stata lo scorso anno Giorgio alla tua prima mezza maratona di Livorno? No, è stata una bellissima esperienza perché appunto come sottolineavi tu si corre in alcuni posti dove normalmente non si può correre come il cantiere ma anche l'accademia navale poi si corre lungo il mare e correre lungo il mare a meno a me dà sempre una bella emozione ma si corre anche in città quindi si vedono anche diciamo le parti storiche di Livorno l'arrivo in pista poi non so a voi ma a me emoziona sempre arrivare dentro una pista vedere il Tartan e fare gli ultimi 300 metri lì dentro veramente mi ha riempito il cuore insomma quindi ci ritorno molto molto volentieri perché è veramente una gara che consiglio a tutti quindi l'arrivo in pista dà quasi la sensazione di essere in un campionato europeo in un'olimpiade esageriamo tanto non costa nulla quindi una logisticamente partenza bella hai fatto bene a ricordare il passaggio dentro l'accademia navale dentro i cantieri navali nella parte storica che loro chiamano la Venezia di Livorno e poi giustamente il lungomare qui si abbina a tutta una serie di situazioni che difficilmente si trova in un'altra città. Assolutamente sì non ci sono molte occasioni di toccare tutte queste parti così diverse poi siamo insomma sia in tanti quindi anche quello fa perché insomma è bello è bello stare in compagnia Maratona di Livorno.it per le informazioni e Giorgio Calcaterra che cosa vuole aggiungere come vuole invitare i nostri amici che ci stanno seguendo sia web sia in tv Beh l'invito è quello di venire per stare insieme per correre per divertirci ma anche perché è una gara veloce dove possiamo se vogliamo provare a fare il nostro tempo e quindi motivo in più anche quello e quindi niente ci vediamo a Livorno vi aspetto